Video caricato da Jais 1979 Video caricato da Jais Video caricato da Jais Grazie Billi DJ E allora, terzo ospite questa notte, il console per voi, Mister Ginger DJ! E allora, terzo ospite questa notte! E allora, terzo ospite questa notte! E allora, terzo ospite! E allora, terzo ospite! Un saluto ai ragazzi di Reggio Emilia! E allora, terzo ospite! E allora, terzo ospite! E allora, terzo ospite! E allora, terzo ospite! Ciao! 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 Bunker, move your body, can stop the rhythm, Zinger il comandante, Bunker, elettronico sound now. Bunker, move your body, can stop the rhythm. ELETRONIC MUSIC! SHANK BABY! SHANK BABY! SHANK BABY! SHANK BABY! SHANK BABY! SHANK BABY! Grazie a tutti. 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 Come on. Grazie a tutti. Come on. Come on. Come on. ? , come on. ? , come on. 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 , , come on. 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 , , come on. 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 , come on.